Un rapporto profondo che ha radici antiche quello dell'arte con il tempo. Io credo di aver sempre desiderato di fare la scultura. Tutti i lavori devono avere una partecipazione del pubblico perché altrimenti non vive il lavoro. Il gruppo T si è formato nel 60 e la parola T sta per tempo. Un viaggio che attraversa il presente portandosi l'eredità controversa del passato e che si affaccia preveggente al futuro. Che cos'è per te la scultura? Per te la scultura A presto Forza Grazie a tutti